beh ragazzi lord of the fallen in attesa che arriva il nuovo che credo non comprerò perché mi è già abbastato questo e io me lo ricordo l'avevo giocato ai tempi perché l'avevo anche comprato ed era un un bel casino era un bel gioco ai tempi bello difficilosso ricordo ancora l'amico ciro che è riuscito a farlo e diceva che era facile io non riuscivo ad avanti però poi comunque avendo platinato Elden Ring Dark Souls 3 Bloodborne vediamo un po' vediamo un po' se mi prende di giocare ancora se no magari facciamo qualche video e via ok for them God creator and destroyer of worlds hear my I have found her. Ecco la mia voce, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. Hold on. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. Allora, è molto legnoso. È un po' scattoso. La mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. Ok, a questo gli ho dato una bella legnata. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. La mia voce di defianza, la mia voce di defianza. Mori. aspetta vado a capire se si può togliere l'immagine ballerina ma stavo facendo questo video anche per l'amico peppe e farlo ridere un po' e sarei morto milioni di volte perché io come se ci gioco per la prima volta non mi ricordo beh, per cercare è un po' un casino combattere ecco, ecco, la prima, la prima morte sulle scale ma come funziona? ma no, devo ricordare ah, ricomincio tutto il pezzo ah eh, vabbè, io ti ho a posto perché qualcuna non è parabile devo rifare tutto da capo allora, mi dà un po' di fastidio alla visuale, alla vista quindi è un gioco che non ci posso giocare molto io la fialetta, non ho ancora capito come si fa a prendere 15 di danno, ma io non ho ancora capito come si fa, c'è solo la parata e basta non c'è rotola non c'è rotola ah, ecco, la X non c'è rotola non c'è rotola è lentissimo ma ecco come si fa allora, arriviamo arrivati la scala la scala io questo io sbatto è sempre qui forse non posso sbattermene adesso, credo che devo ammazzarlo credo, eh credo che dobbiamo farlo fuori, amici, un di te oh, oh hai visto che è arrivato? due, mi fa oh oh oh, ce l'ho fatta mi ha ammazzato solo una volta parla con caslo sono questi cali strani di robo che vi mandano un po' un po' al cervello non c'è è è è è il che siamo il è il 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 è il è il leader di tutta l'humanità se troviamo i guardi troviamo lui il ragazzo che stiamo cercando ancora ora ho visto solo corpso non c'è un attenzione i rogar hanno sicuramente sottotitoli del monastero e Tannos avrebbe dato vita per proteggere la gente se è vivo magari alcuni di loro avrebbero anche c'è un modo di aprire questa porta una schiena o una chiusa è sempre chiusa in certo modo per aprire la porta ci sono queste cose continuano stiamo combattendo ma ci sono troppi ci sono troppi molti di loro è difficile vedere i miei 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 si i miei e questa cosa che lui va a destra e sinistra mentre cammina si può togliere No, ho proprio due cose di numero Questa roba qua che sballottola ce l'ha E' proprio nel suo gameplay Vedete che fa destra e sinistra quando corre? Questa che mi fa Quindi ho seriamente paura Che questa roba ci sia su anche in quello nuovo E voi calcolate che a volte devo togliere il motion blur Si chiama così Mi ha detto il robo ma non la chiave Benissimo Vabbè questo era più che altro un video per farvi vedere un po' come è il gioco Se non l'avete provato Ma credo che era stato dato anche su Playstation Plus Credo di ricordare che l'avevano Io ce l'ho acquistato perché l'avevo comprato in day one Cos'è questo roba qua qua se... Questo robo Mi ha spinto a fingono Allora credo che sto video lo chiudiamo qui con... Cerca una chiave Davvero, chiudiamo un video così Praticamente Ho fatto il tutorial e basta Quattro mostri Chiudiamo il gioco, elimina Vabbè, io l'unico scemo E' questo qui Sì, Ciccio, mi dici come La chiave non l'ho trovata Non ce l'ha nessuno Io rifaccio un altro giro, amico mio E' quello volito che Ma si è uscito Cos'è quello volito? Allora, gli amici che l'hanno finito Magari anche Platinato Staranno ridendo A vedere il video Ma voi sapete che il vostro buon vecchio Marco Drums Games Più avanti, più riflessi non ci sono E anche a volte mi perdo A volte non sto a sentire quello che dicono Questo roba che va tutto un po' strano Probabilmente anche l'ottimizzazione Su PlayStation 5 non c'è proprio Vabbè, io rifaccio il giro E vi saluto Quindi il video l'ho fatto per l'amico Peppe Grandissimo Anche lui ha un canale Ma lui è bravo Vi consiglio anche di andare a vedere lui Se risponderà al video Al mio video nella descrizione Può mettere il link del suo canale Se può farlo perché io sinceramente non lo so Se può mettere i link di altri canali Su YouTube Mi ricordavo che su Twitch non lo faceva fare Quindi niente ragazzi Io mi sono anche arrotolato dentro di lì Ma non riesco a capire E poi mi da questa brutta sensazione qua raga Quasi da star male Vabbè, niente, rifacciamo il giro Io la chiave non l'ho trovata Lì c'è un simbolo Ah ma non ho visto tutta questa parte qua Ma come al momento non è possibile Ma sei serio C'è Uno non si può curare quando è in battaglia Che legnale che ho preso Serio? Che c'ha visto la chiave? Ma porca di vero Se l'avevo vista Mi sembra di ricordare che dentro lì c'era un boss Non c'è Il riso È un problema È un problema Che stai waiting per? Acab задare la porta Potrei utilizzare qualcosa di aiuto C'è 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 Un problema C'è Un problema C'è Un problema C'è Un problema 大的 Un problema Grazie a tutti. Allora! 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 Allora!